buongiorno e bentornate sul mio canale oggi vi propongo un progettino semplice e nello stesso tempo classico alla portata di tutte tempo fa aspettavo questa flowers merino adesso è arrivata e siccome è un filato adatto anche per questa primavera per quando togliamo il piumino il cappotto ho voluto realizzarci un poncio da mettere in sostituzione delle giacche pesante pesanti e ho scelto questa sfumatura che è favolosa vediamo se riesco a farvela vedere dalla telecamera come vedete parte da un colore da un diciamo un color prugna molto scuro e degrada verso il rosa è più chiaro il fucsia rosa un po più acceso rosa più chiaro e termina con il beige ma a me è avanzata un pochino è adatta a tutti è una misura che potete fa potete fare come la mia non ci sono problemi e il punto che ho scelto siccome anche quest'anno già ho fatto un progettino la maglia al cobaleno con le foglie questo semplice poncio classico l'ho voluto fare con lo stesso punto delle foglie e ho alternato qualche nocciolina e qualche cuoricino che è molto molto semplice allora adesso io vi dico la mia flowers è una flowers alpaca il colore è 408 è una flowers di 250 grammi per 940 metri è un 20 per cento alpaca e un 80 per cento acrilico è molto molto soffice la casa ci consiglia l'uncinetto del nome dal 3 al 4 3 e mezzo 4 io però l'ho lavorata con il 4,5 io questa flowers l'ho acquistata sul sito www.merceriaflavia.it dove ci sono anche altre tonalità io ne acquistai già tempo fa un'altra con le tonalità del blu e ci feci lo scialle nuvola che è già sul canale oggi facciamo questo poncio inoltre volevo ricordarvi per le persone nuove che mi seguono la signora della merceria flavia fa una promozione sempre attiva in che consiste e vi apre una scheda clienti dove voi accumulerete dei punti un punto ogni 10 euro arrivati ai vostri 10 punti potete usufruire o di uno sconto di 5 euro sul sull'ordine successivo oppure una spesa di spedizione gratuita molte persone che mi seguono già ce l'hanno la scheda aperta io lo ricordo sempre per le persone nuove quindi detto questo con una flowers vi viene benissimo questo poncio poi ve lo faccio vedere anche indossato io ho lavorato tutto con l'uncinetto del 4,5 ho avviato 90 catenelle quindi io sul campione ne avverò qualcuna in meno e poi vi dirò come suddividere per fare i due aumenti fatte le vostre catenelle il campione ve lo sto facendo con la flowers e precedente quella delle sfumature del blu chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima allora io sul campione ho avviato 32 catenelle mentre sul pezzo originale ne ho avviate 90 quindi che cosa fate abbiate le vostre 90 catenelle chiudete in cerchio vi alzate con 2 catenelle come faccio di solito io rientrate nello stesso punto e questa per me equivale alla prima maglia alta ma voi fate come più vi trovate quindi abbiate le vostre 90 catenelle fate 44 maglie alte nella 45esima fate l'aumento 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte poi fate altre 44 maglie alte e nella 45esima facciamo maglia alta seconda maglia alta 2 catenelle rientrate altre due maglie alte poi fate attenzione alla maglia successiva che si nasconde un pochino ma c'è quindi poi continuiamo altre 44 maglie e la facciamo poi l'ultimo momento quindi fate le altre 44 maglie alte e ci rivediamo all'altro aumento siamo nell'ultima nella 45esima ripetiamo l'aumento quindi due maglie alte 1 e 2 2 catenelle rientriamo due maglie alte quindi una e due e ci chiudiamo sulla prima di inizio giro con una maglia bassissima e abbiamo fatto il giro di preparazione ecco qui adesso che cosa facciamo io a questo punto ho tagliato il filo e sono ripartita da un angolino per evitare che si vede quella chiusura del giro che non è proprio molto bella quindi adesso tagliamo il filo e ripartiamo da un angolo quindi maglia bassissima e chiudiamo adesso ripartiamo da un angolo facendo mezzo angolo quindi prendiamo il nuovo filo entriamo nell'aumento e facciamo 2 catenelle rientriamo e facciamo la prima maglia alta e seconda maglia alta poi catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo e facciamo la maglia alta quindi questo è tutto un giro di punto rete catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo maglia alta quindi andate avanti in questo modo e ci vediamo all'altro aumento siamo arrivati all'aumento quindi abbiamo fatto la catenella saltiamo un punto andiamo nell'aumento e facciamo l'aumento quindi due maglie alte una e due 2 catenelle rientriamo due maglie alte una e due una catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo una catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo quindi andate avanti in questo modo e ci vediamo a fine giro siamo arrivati a fine giro abbiamo fatto la catenella saltiamo un punto e facciamo la metà dell'angolo perché qui mancava una metà e la facciamo in questo modo maglia alta maglia alta poi io non faccio le catenelle bensì faccio la mezza maglia alta quindi entra nella prima maglia e faccio mezza maglia alta così mi ritrovo direttamente al centro del mio angolo e non si vedrà la chiusura del giro inizio e fine giro non si vedrà adesso faccio sempre due catenelle poi rientro e faccio sempre il mio il mio mezzo angolo quindi due maglie alte una catenella salto un punto vado nel successivo allora in questo caso vi faccio vedere come ho fatto io la foglia non ho seguito un criterio l'ho fatto ho fatto non hanno un come dire le ho fatte sparse sia le foglie sia i cuori che le noccioline le noccioline l'ho fatto negli ultimi giri quindi catenella e maglia alta poi per fare la prima foglia facciamo due catenelle saltiamo una due tre nella quarta facciamo tre maglie alte quindi una due e tre già ve l'ho fatto vedere nel nella maglia arcobaleno però ve lo faccio rivedere poi saltiamo una due tre e nella quarta punto alto deciderete voi come gestire le foglie poi catenella saltiamo un punto maglia alta e quali rivediamo un'altra quindi no la facciamo dall'altro lato un'altra quindi punto su punto quadratino su quadratino siamo arrivati all'aumento lavoriamo la maglia dell'aumento catenella saltiamo un punto andiamo direttamente nell'aumento e ripetiamo l'aumento io ho scelto di fare 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte ma potete fare anche 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte e una catenella è lo stesso poi catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo allora in questo lato vi faccio vedere come si fa la foglia per chi non non è capace da questo lato vi faccio vedere come si fa il cuoricino quindi due catenelle saltiamo questo la maglia alta la catenella sulla maglia successiva ripetiamo una due e tre e andiamo avanti lavorando poi saltiamo questo andiamo nella successiva e facciamo la maglia alta una catenella e andiamo avanti in questo modo fino a fine giro terminato il giro ci rivediamo siamo arrivati a fine giro abbiamo fatto la catenella finiamo il nostro angolo quindi due maglie alte una e due carichiamo il filo entriamo nella prima e facciamo la nostra mezza maglia alta che ci equivale alle due catenelle poi ci alziamo come faccio io sempre con due catenelle rientriamo e la prima maglia alta è una seconda maglia alta poi una catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo poi catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo adesso 2 catenelle e poi nella prima facciamo due maglie alte quindi una e due la maglia centrale la lavoriamo singola e qui lavoriamo due maglie alte una e due due catenelle e proseguiamo maglia alta su maglia alta catenella maglia alta su maglia alta andate avanti in questo modo e ci vediamo a fine giro al primo aumento siamo arrivati all'aumento la catenella saltiamo un punto andiamo nell'aumento e rivediamo l'aumento quindi una e due due catenelle rientriamo una e due una catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo una catenella saltiamo un punto e andiamo nel successivo adesso da allora dall'altro lato io ho fatto vi faccio vedere come si fa la foglia e qui come si fa il cuore qui facciamo una catenella nella prima maglia facciamo 3 maglie alte quindi una 2 e 3 la maglia centrale la lavoriamo singola la successiva ne lavoriamo 3 nella stessa maglia quindi una 2 e 3 una catenella e proseguiamo e ci vediamo a fine giro siamo arrivati a fine giro abbiamo fatto la catenella andiamo e finiamo di fare l'aumento quindi maglia alta maglia alta carichiamo il filo entriamo nella prima e facciamo mezza maglia alta 2 catenelle allora una maglia alta è una seconda maglia alta una catenella saltiamo un punto e nel successivo punto alto saltiamo un punto nel successivo punto alto successivo punto alto adesso sempre per la foglia facciamo una catenella nella prima facciamo due maglie alte quindi una e due poi maglia singola maglia singola maglia singola maglia singola e nell'ultima ripetiamo due maglie una catenella e proseguiamo in questo modo e ci vediamo dall'altra parte per il cuore siamo arrivati alla parte del cuore che cosa dobbiamo fare senza fare catenelle entriamo nella prima maglia e facciamo l'aumento quindi una e due poi sulla successiva maglia singola la successiva ancora due maglie alte una e due successiva maglia singola successiva ancora due maglie alte successiva ancora una maglia alta nell'ultima due maglie alte per un totale di undici maglie non vi sbagliate le contiamo 2 4 6 8 10 11 andate avanti in questo modo e ci vediamo a fine giro siamo arrivati alla parte della foglia adesso dobbiamo chiudere quindi cosa cosa facciamo due catenelle saltiamo il primo punto entriamo nel secondo e lavoriamo 5 maglie consecutive 2 3 4 e 5 2 catenelle e andiamo nella maglia alta una catenella e proseguiamo in questo modo e ci rivediamo dal lato opposto per fare insieme il cuore adesso dobbiamo chiudere il cuore che cosa facciamo facciamo due catenelle una e due poi entriamo nella prima e chiudiamo la maglia alta a metà seconda maglia alta a metà terza maglia alta a metà quarta maglia alta a metà quinta maglia alta a metà abbiamo sulla sull'uncinetto 6 asoline e chiudiamo tutto insieme 2 catenelle e facciamo la maglia bassa sulla maglia centrale 2 catenelle e ripetiamo maglia alta chiusa a metà seconda maglia alta chiusa a metà terza maglia alta chiusa a metà quarta maglia alta chiusa a metà quinta maglia alta chiusa a metà abbiamo 6 asoline chiudiamo tutto insieme 2 catenelle e proseguiamo punto su punto la sequenza delle foglie e la sequenza dei cuori la deciderete voi io le ho fatti sparsi quindi andiamo avanti in questo modo e ci vediamo nel lato della foglia siamo arrivati al lato della foglia abbiamo lavorato l'ultima maglia alta facciamo una catenella una maglia alta nell'archetto di due catenelle una catenella saltiamo un punto e lavoriamo tre punti consecutivi quindi 1 2 e 3 una catenella nell'archetto maglia alta una catenella e proseguiamo lavorando punto su punto e ci vediamo alla parte del cuore siamo arrivati alla parte dove abbiamo fatto il cuore lavoriamo in questo modo facciamo una catenella e una maglia alta qui nell'archetto una catenella e facciamo una maglia alta sulla maglia che abbiamo chiuso il cuoriceno una catenella è una maglia sulla maglia bassa una catenella e dove abbiamo chiuso il cuore una catenella e nel l'archetto una catenella e ripartiamo sulla maglia alta quindi in questo modo abbiamo fatto il cuore vediamo se riesco a farvelo vedere sul piano non so se si riesce a vedere però eccolo qua credo di sì vediamo con la mia mano sotto ecco qui abbiamo fatto il cuore forse su questo è un colore un pochino più scuro vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua eccolo qui vedete adesso dobbiamo chiudere invece la foglia e poi vi faccio vedere come ho fatto le notti come ho fatto io le noccioline allora intanto vi faccio vedere come ho fatto le noccioline quindi catenella e maglia alta rientro seconda maglia alta terza maglia alta quarta maglia alta quindi cinque maglie alte nella stessa maglia di base per la nocciolina tiro un pochino l'asola rientro nella prima aggancio tiro catenella e vado avanti in questo modo mi dispiace che il cuore non si vede benissimo ma dell'altro filato me ne è rimasto talmente poco che non riuscivo a farci il campione quindi ho preso questo che mi ha avanzato dello scialle però essendo blu quindi nocciolina 5 maglie alte nello stesso punto di base 3 4 e 5 tiriamo poco poco il filo da dietro agganciamo e andiamo avanti quindi ci vediamo alla foglia per farvi vedere come chiuderla siamo arrivati alla foglia quindi ultima maglia alta catenella maglia alta sulla prima catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo maglia alta ed è chiusa anche la foglia si va avanti in questo modo fino a fine giro e poi ci rivediamo quando vi trovate sulla nocciolina fate una catenella entrate al centro della nocciolina in questo modo e fate la maglia alta catenella e poi proseguite punto su punto andate avanti in questo modo quindi accelera un attimino tanto questo è appunto rete e vi faccio rivedere sulla nocciolina successiva dove dovete prendere la maglia ultima catenella andare al centro qui caricate maglia alta e andate avanti in questo modo a fine a fine giro catenella terminiamo l'aumento e 2 carichiamo il filo entriamo maglia mezza alta ed eccoci qui allora quindi il progetto si sviluppa tutto in questo modo adesso praticamente io da un lato ho fatto questo questi ventaglietti e come ho fatto allora in una punto in un aumento sono sono andata avanti con gli aumenti fino a fine giro e dall'altro lato dove abbiamo l'altro aumento ho diminuito in che modo e adesso ve lo faccio vedere quindi stiamo al centro facciamo due tre quattro catenelle saltiamo le due maglie dell'aumento la maglia successiva il quadretto successivo andiamo in quello dopo e facciamo la maglia alta catenella e proseguiamo in questo modo fino facendo l'aumento dall'altra parte come abbiamo fatto finora e ci rivediamo dall'altra parte per farvi vedere come chiudere per creare questa sorta di di linea allora siamo arrivati a fine giro e dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte quindi carichiamo due volte il filo sull'uncinetto entriamo al centro e facciamo una maglia alta doppia ecco qui in modo tale che avete ambo le parti già la linea retta poi per tornare indietro fate quattro catenelle 3 e 4 voltate perché questo in questo caso si lavora a giri di andate ritorno e saltate questo e andate nella maglia alta successiva è il ripetere e lavorate la maglia alta e si riparte lavorando punto su punto in questo modo quindi come vedete dal lato opposto continuate ad aumentare e quindi ad allungare la punta nel lato nell'altro lato invece non vi crescerà più ma si formerà questa linea che poi voi potete rifinire con i ventaglietti come ho fatto io quindi spero di essere stata chiara in questa spiegazione mi auguro che nel progettino vi sia piaciuto se avete qualche dubbio magari mi potete scrivere tranquillamente ma come vedete è molto molto semplice sia fare i cuoricini sia fare le foglie sia fare le noccioline spero di avervi dato un'altra idea per i prossimi vostri prossimi progettini ecco forse da qui si vede anche il cuoricino i vostri progettini vi lascio tutti i link in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo tutorial intanto vi auguro una buona giornata una buona giornata a tutte e vi ringrazio di essere stati qui con me